Selvaggia Roma conquista anche oggi i suoi fan e lo fa con un post pubblicato sul suo profilo Instagram. L'influencer stende i fan con un vestito rosso cortissimo. La bellezza e la popolarità di Selvaggia Roma fanno esplodere anche oggi il web. La bella influencer indossa un vestito rosso molto corto che scopre le sue meravigliose gambe e mette voglia d'estate. Una scelta splendida, che viene accolta con grande favore dai suoi fan. Un successo clamoroso che la accompagna costantemente nel mondo del web, a dimostrazione di quanto sia amata dai suoi fan. Bellezza e simpatia che ha dimostrato puntualmente nelle sue avventure televisive. Nata a Roma nell'ottobre del 1990, il suo successo è incredibile dopo aver partecipato a Temptation Island. E, proprio in quest'occasione che i fan fanno la conoscenza del suo carattere, molto forte e travolgente. Straordinaria, fa parlare di sé puntualmente e sorprende i telespettatori tramite bellezza, simpatia e spontaneità. Ora è una vera e propria influencer, seguitissima da tantissimi fan su Instagram, pronti a restare a bocca aperta, di fronte ai suoi scatti mozzafiato. Dunque, nella foto pubblicata quest'oggi su Instagram, selvaggia è a dir poco esplosiva. Si pone in primo piano con gambe scoperte e un vestito rosso cortissimo che mette in mostra il suo corpo mozzafiato. Il sorriso smagliante sul suo volto e le scarpe intrecciate completano il quadro. Alle spalle, non poteva delinearsi un panorama stupendo, di campagna, ma tutti gli occhi sono per lei. Dalla simpatia alla bellezza, personalità da vendere e scatti mozzafiato. Selvaggia Roma è così e anche oggi ce l'ha ricordato.